Musica Operazione Squillo in due a giudizio per affavoreggiamento e sfruttamento della prostituzione Controlli nella mensa scolastica di Mazzara Mal tempo, alghe a Selinunte, strada impraticabile a Tonnarella Da lunedì alla Camera di Commercio, sessione di formazione per il personale Nella cattedrale di Mazzara, oggi l'inaugurazione della croce restaurata Calcio, Mazzara domani a Paceco, a caccia del primo successo del 2015 Buon pomeriggio dal TG8 Informazioni, apriamo subito con la cronaca Incidente stradale ieri pomeriggio a Mazzara del Vallo, all'altezza dell'incrocio Fra la via Marsala e la via Viaggio Pace, nei pressi di un noto supermercato Secondo una prima sommaria ricostruzione, una Fiat Punto Con a bordo una coppia di coniugi proveniente dalla via Viaggio Pace Si è scontrata con una lancia Ypsilon Elefantino che sopraggiungeva dalla via Marsala A bordo della seconda autovettura vi erano due donne e due ragazzini Sul posto sono intervenute una volante dei carabinieri e due ambulanze Che hanno trasportato i feriti presso l'area di emergenza urgenza di via Livorno Dove dopo i primi confortanti esami sono stati dimessi E' stato arrestato da agenti della Polizia di Stato in servizio di pattuglia L'autore di una rapina perpetrata ieri pomeriggio ai danni di una barra tabaccheria All'interno della stazione ferroviaria di Marsala Si tratta di Gaetano Fasulo di 40 anni L'uomo, secondo quanto ha poi riferito la titolare dell'esercizio commerciale Si era introdotto nel locale intorno alle ore 18.30 E dopo aver estratto di tasca un coltello incurante della presenza di altri clienti Aveva intimato alla donna di consegnargli il denaro contenuto nella cassa La descrizione fisica e degli abiti indossati dal rapinatore fornita dai testimoni Ha consentito ai poliziotti a corsi sul posto di individuare Fasulo Mentre si aggirava ancora nei pressi della stazione Nel corso della perquisizione personale effettuata Gli sono stati trovati addosso il denaro ed il coltello utilizzato per la rapina L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Trapani A disposizione dell'autorità giudiziaria Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione A giudizio due degli imputati finiti alla sbarra A seguito dell'operazione condotta dai carabinieri di Petrosino E denominata squillo Sentiamo Il giudice per l'udienza preliminare Francesco Parrinello Ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal PM Sabrina Carmazzi Nel procedimento scaturito dall'operazione dei carabinieri denominata squillo Nella precedente udienza la procura di Marsala Aveva chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone Accusate di aver indotto alla prostituzione E di aver favorito il meretricio di varie donne straniere In un immobile che si trovava in contrada a Fossa Runza Si tratta di Leonardo Petterico, 35 anni Nidia Iolanda Moia Espitia, colombiana di 42 anni Salvatore Brugnone, di 70 anni, difeso da Salvatore Fratelli E di Sandra Tatiana Ordinez Ghiraldo, di Bogotà, di 44 anni Nel dettaglio il GUP Francesco Parrinello Ha disposto il rinvio a giudizio per Salvatore Brugnone E per Nidia Iolandia Moia Espitia Per loro il processo prenderà il via il prossimo 20 marzo Innanzi al Tribunale Collegiale Certo dell'innocenza del suo assistito Si è detto l'avvocato Salvatore Fratelli Aspettiamo di affrontare il giudizio ordinario Per dimostrare l'assoluta estranetà Ai fatti contestati di Salvatore Brugnone Ha chiesto di essere giudicato invece Con il rito abbreviato Leonardo Petterico Ha invece patteggiato Sandra Tatiana Ordinez Ghiraldo Per la quale è stata decretata la condanna a 10 mesi di reclusione E una multa di 1800 euro con pena sospesa Il procedimento ha preso le mosse dall'operazione dei carabinieri Denominata Squillo Realizzata con la collaborazione del personale dell'arma di Genova Portoria Gli imputati secondo la pubblica accusa sarebbero responsabili In concorso tra loro di induzione e favoreggiamento Della prostituzione di varie donne di nazionalità straniera L'indagine Squillo condotta dalla stazione dei carabinieri di Petrosino Sotto la guida del luogotenente Maurizio Giaramita Ha preso il nome dalle modalità con cui i clienti sarebbero entrati in contatto Con le ragazze dedicate all'attività del meretricio Le prostitute infatti pare utilizzassero inserzioni pubblicitarie su giornali A tiratura regionale Fornendo il proprio recapito telefonico ed il luogo dove incontrarsi Nel caso di specie a Marsala All'interno di una billetta di contrada Fossa Runza Una triste e lunga storia di vessazioni e violenze fisiche e psichiche Consumatesi all'interno delle mura domestiche qualche tempo fa Ha avuto ieri un partiale epilogo con l'applicazione nei confronti di un uomo alcamese Della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare Nel pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato In esecuzione di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo Hanno infatti sottoposto a tale provvedimento un uomo di 43 anni Pregiudicato per reati contro il patrimonio Recentemente deferito all'autorità giudiziaria per maltrattamenti aggravati Nei confronti della moglie e dei figli Adesso il padre aggressivo dovrà allontanarsi immediatamente dalla casa familiare E non potrà accedervi senza l'autorizzazione del giudice Ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato Don Sergio Librizi accusato di concussione e violenza sessuale Se la sua richiesta venisse accettata in caso di condanna Il sacerdote beneficerebbe della riduzione di un terzo della pena L'ex direttore della Caritas Diocesana era stato arrestato nel giugno scorso Dagli agenti della sezione di PG del Corpo Forestale di Trapani Secondo le accuse mossegli dagli inquirenti avrebbe chiesto prestazioni sessuali Ad alcuni giovani migranti in cambio del suo aiuto Per rapportare a buon fine le pratiche per il riconoscimento dello status di rifugiato politico Il sacerdote infatti era fra i componenti della commissione territoriale Che valutava le istanze degli extracomunitari Ospitati nei centri di accoglienza della provincia di Trapani Sono otto i casi che gli vengono contestati dai magistrati Il procedimento nei suoi confronti dovrebbe prendere il via il prossimo 9 marzo Nelle scorse settimane la procura aveva chiesto nei suoi confronti il giudizio immediato Blitz alla messa scolastica del quarto circolo di Mazzara Da parte dell'assessore alla pubblica istruzione Adele Spagnolo Sentiamo com'è andata L'assessore comunale alla pubblica istruzione Adele Spagnolo Ad inizio settimana ha effettuato una sorta di blitz Unitamente al personale dell'ufficio pubblica istruzione Al quarto circolo didattico Quinci durante l'ora di mensa Sedendosi a tavola con gli alunni e consumando gli stessi pasti Sia per il gusto che per la qualità il giudizio è stato ottimo L'assessore ha inoltre avuto modo di constatare personalmente il giudizio positivo Espresso da docenti e famiglie Il servizio è attualmente garantito dall'impresa Bruno Pasti di Mazzara del Vallo A giudicataria dell'appalto con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa Totalizzando 97 punti e mezzo su 100 Un punteggio che ha tenuto conto sia del ribasso d'asta sia della qualità dell'offerta Il servizio ha un costo complessivo di 128.000 euro circa oltre IVA del 4% per l'intero anno 2015 Sarà cura dell'amministrazione da settembre del 2015 programmare il nuovo appalto per l'anno 2016 È rivolto alle scuole materne statali in favore degli alunni delle classi di scuola primaria di Mazzara 2 E del plesso di Via Livorno nonché degli alunni di scuola secondaria di primo grado di Mazzara 2 E dei bambini da 2 a 3 anni delle sezioni primavera del primo circolo didattico Attraverso la preparazione e distribuzione di 600 pasti giornalieri Per quanto riguarda i costi per l'utenza la gratuità dei pasti è prevista per gli alunni Le cui famiglie abbiano avuto un reddito inferiore a 6.000 euro La quota contributiva a carico dell'utenza è determinata al 50% del costo del pasto di 3 euro Per i nuclei familiari che abbiano avuto un reddito compreso tra 6.000 euro e 12.000 euro Pagano quindi 1,50 euro a pasto Del 75% per i nuclei familiari che abbiano un reddito compreso tra le 12.000 euro e le 18.000 euro E pagano 2,25 euro a pasto e al 100% per i nuclei familiari che abbiano avuto un reddito superiore a 18.000 euro Pagano per intero i 3 euro a pasto Assolti due coniugi alcamesi, i fatti in questione risalgono al 17 giugno del 2010 Quando i coniugi Castrenze Camarda di 70 anni e Anna Maria Ingravo di 55 Vennero arrestati dalla Guardia di Finanza di Alcamo A seguito di alcuni controlli nel loro fondo agricolo di Partinico La Guardia di Finanza aveva rinvenuto una piantagione di marijuana di oltre 2.000 piante Con annesso in pianto di irrigazione La successiva perquisizione presso l'abitazione aveva consentito di rinvenire una pistola E nel giardino condominiale alcune piante di marijuana I coniugi si difesero subito negando ogni responsabilità E adducendo di aver affittato il fondo ad un terzo soggetto Dopo 5 anni il Tribunale di Palermo preseduto dal dottor Fontana Ha pronunciato l'assoluzione per non aver commesso il fatto Hanno chiamato il Lassin con i pescatori di Marinella Per invitarlo ad un urgente intervento di bonifica del porto Visto che le mareggiate di Ponente hanno intasato ancora una volta Soprattutto la banchina di terra Dove le imbarcazioni adesso si trovano ingabbiate Ed intrappolate dalle alghe fresche Che fino a ieri sera si trovavano spiaggiate fra i due porti Le alghe a causa delle forti correnti sono entrate dall'imboccatura del porto a Tonnellate E adesso c'è il rischio che le imbarcazioni dei pescatori restino a secco Gli stessi pescatori chiedono anche che arrivi la Capitaneria di Porto per un sopralluogo Visto che qualsiasi autorizzazione passa anche da quest'ultima autorità Ed il maltempo degli ultimi giorni ha ancora una volta segnato anche la spiaggia di Tonnarella a Mazzara La sede stradale è ormai quasi impercorribile per l'acqua, il fango e le alghe che hanno invaso il lungomare Fatamorgana Chi tenta di percorrere la strada deve infatti fare particolare attenzione Questa mattina il sindaco Nicola Cristaldi ha fatto un sopralluogo con i responsabili della protezione civile Provvedimenti concreti dovrebbero essere attuati a partire da lunedì Anche su lungomare San Vito si registrano dei problemi in particolare nel largo Paolo Lisma Negli studi di Teleotto invece si torna a parlare delle bollette TIA Oggi alle 15.30 ed in replica questa sera alle 21.30 e domani alle ore 14 Andrà in onda un'intervista del nostro direttore Salvatore Giacalone Al responsabile del procedimento TIA, dottor Vito Di Giovanni Ma sentiamo un passaggio di quest'intervista A questo punto la società ha emesso gli avvisi di pagamento notificati Quelle famose raccomandate che sono arrivate nella fine del 2012 A cui si notificava all'utente che vi era per ogni posizione TIA Vi era il credito o un credito dell'utente stesso Quindi la società avrebbe dovuto rimborsare il denaro al cittadino O addirittura il pagamento della parte non riscossa Perché la società cosa ha fatto? Ha annullato l'emissione 2007-2008-2009 Che non aveva la legittimazione dei consigli comunali E ha rimesso questi nuovi avvisi di pagamento Con l'indicazione della delibera di consiglio comunale Che ha legittimato la tariffa E già allora tutte queste cose le abbiamo spiegate Non di meno c'è ancora da ricordare che vi è un procedimento penale aperto Sulla questione del database TIA Ecco perché dico probabilmente sono scomodo C'è il procedimento del database TIA Che ancora non è stato chiuso dalla Procura della Repubblica Un database che era stato artatamente costruito Per creare un maggiore introito TIA Che noi abbiamo e ringrazio per questo Tutti i miei collaboratori che hanno lavorato E posso tranquillamente dirlo giorno e notte Per cercare di risolvere il risolvibile E ancora oggi molte situazioni non sono risolte Vi era la situazione degli accertamenti Degli avvisi di accertamento che qualche anno prima erano arrivati Emessi dalla società dal 2005 al 2006 E quegli avvisi di accertamento la società li ha annullati in autotutela Sempre secondo un ragionamento che questa volta ha fatto il sottoscritto E che è stato accettato dal liquidatore Accertamenti che sono stati annullati E il cittadino non ha perso un euro di ciò che già aveva versato Perché gli sono stati compensati negli avvisi di pagamento notificato 2007-2009 Due foto significative Nella prima foto si vede la zona di Santa Maria Dove accanto ai cassonetti vuoti e puliti sono stati scaricati conci di tufo E nella seconda foto si vede la zona limitrofa Il cimitero dove degli autentici delinquenti Come li chiama il sindaco di Mazzara Nicola Cristaldi Continuano a scaricare di tutto Nonostante in quel cimitero siano sepolti i nostri padri Per risparmiare qualche euro si buttano sfabbrici di ovunque E per non portarli al centro di raccolta di via Marsala Si buttano relitti di mobili accanto al Campo Santo Voglio dire a questi delinquenti che si credono furbi Scrive in una nota il sindaco di Mazzara Nicola Cristaldi Che sono soltanto degli imbecilli E che nella nostra Mazzara la maggioranza delle persone Pensa che i soggetti responsabili di tali atti Meritino di andare loro in discarica Consigli comunali con la partecipazione di sindaci E giunte lunedì 9 febbraio in tutti i comuni dell'isola Continua dunque la protesta decisa dal Lanci Sicilia Durante lo scorso Consiglio regionale Contro la gravissima crisi economico-finanziaria Dei comuni siciliani I tagli del Governo nazionale e regionale Alle risorse destinate agli enti locali Ed il mancato avvio di riforme fondamentali Le delibere che saranno approvate dai consigli comunali Rappresenteranno un'adesione concreta alla mobilitazione E dalle prossime azioni dimostrative Alla Camera di Commercio di Trapani E ai nastri di partenza il corso di formazione Nell'ambito del progetto Club Ble Artisanal Sentiamo La Camera di Commercio di Trapani Ha organizzato una sessione di formazione Per il personale che sarà impiegato Negli antenne Cioè negli sportelli di assistenza Ai pescatori e ai ristoratori Del progetto Club Ble Artisanal Il progetto, realizzato nell'ambito del programma di cooperazione Trasfontaliera Italia-Tunisia Vede coinvolte la Camera di Commercio di Trapani In qualità di capofila E vede come partner Il distretto produttivo della pesca di Mazzara L'Istituto Superiore della Pesca e dell'Acquacultura di Biserta La Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacultura La Federazione Regionale degli Albergatori di Tunisi Cartagine e Biserta Il progetto prevede l'attivazione di due sportelli Una nella sede della Camera di Commercio di Trapani Rivolta ai ristoratori che aderiranno al Club Ble Artisanal L'altra a Mazzara del Vallo negli uffici del COSVAP Destinate ai pescatori che aderiranno al Club Ble Artisanal La sessione di formazione dei formatori Prenderà il via lunedì 9 febbraio A partire dalle 9.30 alla Camera di Commercio di Trapani I lavori continueranno martedì 10 e mercolì 11 febbraio Sempre nell'aula di formazione del Palazzo Camerale Dalle 9.30 al pomeriggio Per approfondire gli aspetti che riguardano la pesca e la ristorazione Nel progetto sono coinvolti I pescatori di Mazzara del Vallo e di Sid Macchereg Oltre che gli albergatori e ristoratori di Trapani e Biserta Una prima sessione per la formazione degli addetti agli sportelli Si è tenuta lo scorso dicembre a Biserta Dove è già operativo lo sportello rivolto ai ristoratori Mentre a Sid Macchereg è stato attivato lo sportello rivolto ai pescatori Il progetto Club Ble Artisanal Punta a garantire il rispetto della qualità e della tracciabilità Delle risorse alieutiche del nostro mare Valorizzando al contempo le tradizioni enogastronomiche Congiunte Italia-Tunesine E l'approvvigionamento a chilometro zero Con prodotti di qualità controllata Obiettivo dell'iniziativa è la creazione del marchio di qualità Club Ble Artisanal Che raggiungerà i prodotti della pesca artigianale E le strutture ricettive che ne faranno uso Attuando un sistema di approvvigionamento diretto Tra i pescatori di Sid Macchereg e di Mazzara del Vallo E il ristoratore di Trapani e Biserta Nuovo assessore comunale a San Vitolo Capo Franco Galante prende il posto di Carlo Stabile Dimessosi per sopraggiunti impegni professionali Ha ricevuto le deleghe nei settori ecologia ed ambiente Verde pubblico, manutenzione dei beni comunali E servizi cimiteriali Il neoassessore mantiene come consente la legge L'incarico di consigliere comunale Il segretario della democrazia cristiana di Campobello di Mazzara Daniele Mangiaracina Invita la civica amministrazione responsabile Della manutenzione della sicurezza delle scuole A garantire con somma urgenza Le aule che servono per il naturale Svolgimento delle attività didattiche Si coglie l'occasione, continua la nota Per segnalare agli uffici comunali competenti La disponibilità dopo anni di chiusura Dell'istituto scolastico Livatino di Via Guerrazi Già pronto per essere utilizzato e riconsegnato Nonché la presenza in città di un enorme istituto provinciale Per geometri che nell'interesse pubblico prevalente Deve essere messo al servizio dei nostri figli Ed a proposito di scuole A Mazzara si lavora per la creazione di un'università Al servizio dell'intero territorio provinciale Tutti i particolari nel servizio Realizzare un'università che abbia dipartimenti Laboratorie e fattorie didattiche In tutte le realtà territoriali della provincia di Trapani Che siano utili al territorio E facciano soprattutto ricerca ed innovazione Senza le quali la Sicilia non ha futuro E questa la mission di un gruppo di docenti universitari E ricercatori di livello internazionale Coordinato dal professor Francesco Torre Della facoltà di conservazione dei beni culturali Di Ravenna dell'Università di Bologna Il professor Torre ha prospettato il suo progetto A Mazzara del Vallo in due distinti incontri Nei locali della presidenza del consiglio comunale Ha incontrato la commissione consigliare Pubblica istruzione, beni culturali, turismo, sport E politiche giovanili Al collegio dei Gesuiti ha incontrato Il sindaco di Mazzara, Nicola Cristaldi Nel corso dei due incontri Il professor Torre ha sottolineato Le difficoltà che numerose famiglie vivono Nel far studiare i propri figli Fuori dal territorio regionale Anche quando ciò accade Ha commentato Torre Dopo aver speso una fortuna Questi poveri genitori Non vedono più tornare i loro figli Che trovano occupazione nel nord Italia O all'estero Dove le menti più brillanti Fanno la fortuna degli altri paesi Da qui la necessità di un polo universitario Inserito in tutto il territorio Che non si limiti alle semplici lezioni Ma che rappresenti un aiuto concreto Allo sviluppo socio-economico Ed occupazionale del territorio stesso Attraverso ricerca e innovazione Dipartimenti, laboratorie e fattorie didattiche Che in ogni contesto territoriale Siano specifici per le esigenze del territorio stesso Un progetto che va analizzato nei dettagli Ma che già trova la massima attenzione Ed il gradimento Sia dei rappresentanti del Consiglio Comunale Il Movimento 5 Stelle di Mazzara del Vallo Ha programmato per lunedì 16 febbraio Alle ore 15 In via Gian Giacomo Adria 59 a Mazzara Un incontro pubblico denominato Ripeschiamo Nel corso del quale interverranno Numerosi deputati del Movimento 5 Stelle Del Parlamento Europeo, del Senato, della Camera, della Regione Sicilia E del Consiglio Comunale In una giornata di incontro e confronto Per affrontare la tematica più importante della città Ovvero la pesca Il tema dell'incontro sarà rivolto principalmente Alle criticità del settore pesca E dal Trattato Transatlantico per il Commercio Saranno presenti Marco Affronte Ignazio Corrao, Maurizio Sant'Angelo Claudia Mannino, Giancarlo Cancelleri Ancora Sergio Tancredi, Matteo Mangiacavallo Valentina Palmeri e Nicolò La Grutta Pubblicato dall'Inps l'avviso relativo al progetto Home Car Premium 2014 Per dipendenti e pensionati pubblici In condizioni di disabilità Nonché per i loro conviventi e familiari di primo grado Anch'essi non autosufficienti La procedura per l'acquisizione della domanda online È attiva fino al prossimo 27 febbraio Su delega del richiedente I cittadini dei comuni di Marsala e Petrosino Potranno inviare la domanda tramite L'operatore individuato dal distretto sociosanitario 52 Presso la sede dei servizi distrettuali di via Falcone 5 I servizi previsti nel progetto Home Car Riguardano l'assistenza domiciliare alla persona Nonché disbrigopratiche e sostegno psicologico Ma cambiamo decisamente argomento Sciacca si prepara per il prossimo carnevale Che però non sarà ricco di carri come gli altri anni Il servizio Anche quest'anno la grande piazza scandaliato di Sciacca Tornerà ad essere animata da carri allegorici e gruppi mascherati Tra le bancarelle di dolciumi, di scherzi e la musica Ma la manifestazione appare ridotta rispetto alle precedenti annate Sintomo che la crisi pesa persino sul carnevale Sfileranno solamente tre carri Oltre al Peppe Nappa, maschera simbolo del carnevale Sacciense E saranno solamente otto i gruppi mascherati fuori concorso Il costo totale non supererà 250.000 euro I giorni di festa saranno solamente quattro Da sabato 14 a martedì 17 febbraio E per ridurre le spese non si è esitato nel tagliare Alcune figure storiche come quella del direttore artistico Quest'anno il comune risparmierà persino sulla conduzione su palco Perché questa è stata affidata ai cabarettisti della trasmissione Ridi che ti passa Che si sono offerti di accettarla a titolo gratuito In cambio della possibilità di cercare sponsorizzazione privata Dopo la presentazione di un programma più generale avvenuto lunedì scorso Ieri sera nel corso di una cerimonia presso il museo del carnevale Iniziata alle ore 21 ed animata dagli stessi gruppi mascherati Protagonisti di questa edizione della Kermess E' stato reso noto il programma dettagliato 2015 Nonostante ridimensionato l'evento rimane tuttavia di punta Per gli abitanti della città Che sperano come sottolinea il sindaco Fabrizio Di Paola Di poter tramite questa festa rilanciare l'intero territorio Vi aspettiamo al carnevale di Sciacca Sabato 14, 15, 16, 17 Anche perché prima e dopo non ci siamo Venite a trovare a Sciacca il carnevale più antico d'Italia E il più allegro di Sicilia Un carnevale con il sorriso Ridi che ti passa insieme a noi Ridi che ti passa Ridi che ti passa Oh, mi ciò E io ora che dico? Eh, mi sembra trova la mente Siamo a me Salute e vai Ciao, ciao Ciao, ciao Ridi che ti passa Sciacca L'associazione Medici Cattolici Sezione di Mazzara del Vallo Organizza in occasione della ricorrenza Della giornata dell'ammalato Un ambulatorio medico Presso i locali della chiesa di Sant'Antonio di Padova A Mazzara 2 Oggi e domani sarà possibile Sottoporsi a visite mediche della tutto Gratuita effettuate dai diversi specialisti presenti Un'iniziativa proposta dalla presidente Dei Medici Cattolici di Mazzara Il dottor Giuseppe Parisi In collaborazione con il parroco della chiesa Padre Titone I medici saranno disponibili all'assistenza medica Di colore quali si recheranno Nelle giornate prestabilite Presso i locali della chiesa di Sant'Antonio di Padova Le visite verranno effettuate oggi Dalle ore 15.30 alle ore 17 E domani dalle ore 9 alle ore 11 L'iniziativa cercherà di dare l'opportunità A quanti vorranno Di sottoporsi a dei controlli di routine Senza dover pagare un ticket E senza dover aspettare le lunghe liste d'attesa Dopo il completamento degli interventi di restauro Verrà inaugurata questo pomeriggio La nuova collocazione della croceligna La nuova collocazione della cattedrale di Mazzara Sentiamo Tirata su con una fune d'acciaio Sospesa nel vuoto e nella sua magnifica bellezza Che si incastona Allo sguardo del visitatore Nello splendore della trasfigurazione del Signore All'interno dell'abside La croceligna dipinta della cattedrale È tornata a risplendere Dopo un intervento di restauro Stavolta nella navata centrale Del principale luogo di culto della città La nuova collocazione Nell'intradosso dell'arco trionfale È stata scelta dopo che per anni La croce rimase esposta Nella navata sinistra della cattedrale Alla presenza del parroco Don Leonardo Buonacasa Don Giuseppe Biondo Direttore dell'Ufficio per i beni culturali ecclesiastici Paola Misuraca Soprintendente ai beni culturali di Trapani Maria Andaloro Docente di storia dell'arte medievale Presso l'Università della Tusce Viterbo Stefano Caramanna Docente di restauro Presso l'Università di Palermo Intermezzo musicale A cura del maestro Diego Cannizzaro Organista del Duomo di Cefalù E docente di organo Intervento conclusivo del Vescovo L'opera Docentesca di un anonimo maestro siciliano Del XIII secolo Raffigura da un lato l'immagine del Cristo crocifisso Dall'altro l'agnello pasquale al centro E all'estremità delle bracci simboli Dei quattro evangelisti Un eccezionale manufatto storico-artistico Una testimonianza preziosa Che ora tutti i fedeli Potranno ammirare nella sua grandezza In meno di un mese è stato montato il ponteggio E la Medirrestauri di Mazzara del Vallo Ha effettuato i lavori sull'arcata principale della cattedrale Realizzando un foro comunicanto Che è il sottotetto dove è stato installato Un argano per consentire il sollevamento Della croce all'altezza dei 10 metri Questo sistema consentirà in qualsiasi momento Di poter riportare a terra la croce Spiegato il direttore del lavoro L'ingegnere Filippo Azzarito Per interventi di restauro E perché no Per essere ammirata da vicino dai visitatori Attorno alla croce Per essere tenuta sospesa È stato costruito un telaio in acciaio Che non ha però nessun contatto con legno L'opera d'arte poggia infatti su alcuni quadranti Di una speciale gomma Che non danneggia l'opera Ne ammortizza eventuali movimenti La croce è illuminata da uno speciale impianto Che ne esalta la bellezza cromatica e spaziale Sarà intitolato all'attrice, attivista e parlamentare italiana Franca Rame Il micronido comunale di Petrosino In prima fila nelle battaglie civili Ha dato un impulso eccezionale Alla lotta contro la violenza sulle donne Contribuì in questo con la forza E il coraggio di raccontare il suo sequestro In uno spettacolo dal titolo Lo stupro del 1981 Sono molto contento E ringrazio a nome mio e di mio padre Il sindaco e tutta l'amministrazione comunale Queste le parole di Jacopo Fo Figlio di Franca Rame Credo sia molto bello che da più parti in Italia In questo caso da Petrosino Con questo gesto si voglia dare testimonianza Dello straordinario impegno di mia madre per l'arte Le battaglie civili Per il benessere delle persone e del prossimo Domani alle ore 11.30 Presso la parrocchia Maria Santissima Bambina Nell'omonima Contrada a Marsala Sarà conferito il ministero dell'accolitato Alla seminarista Daniele Donato Sempre domani ma alle ore 18 Presso la parrocchia Maria Madre della Sapienza In Contrada a Sapusi a Marsala Sarà conferito l'accolitato a Marco Laudicina I due seminaristi stanno frequentando Il quinto anno di teologia Presso la facoltà teologica San Giovanni Evangelista di Palermo Sarà effettuata stasera alle 19 Nell'auditorium dell'hotel Tirreno di Pizzo Lungo La cerimonia di premiazione del premio letterario nazionale Calliope insieme per scrivere Indetto dall'associazione musicale e culturale Santa Cecilia di Buseto Palizzolo Nell'occasione la banda musicale dell'associazione diretta dal maestro Antonino Oddo Eseguirà un concerto di musiche classiche e colonne sonore E sarà allestita una mostra d'arte di artisti locali Alla prima edizione del premio Calliope insieme per scrivere Hanno concorso 98 autori con 147 opere Rappresentate ben 14 regioni su 20 di tutta Italia Mentre un'opera con testo ovviamente in lingua italiana È giunta dalla Spagna Si terrà stasera alle 20 al ristorante Fontana Rossa di Erice La conviviale evento della Shain Trapani Un confronto a quattro mani con due attori protagonisti Lo chef Mario Bianco, cresciuto e maturato Perfezionando la sua cucina con l'uso di materie prime di provenienza locale E lo chef Peppe Lombardo Dai più ritenuto una promessa nel panorama gastronomico italiano È previsto l'intervento di Paolo Salerno Autore del libro Cuscusu Prenotazione obbligatoria al 348 55 07 146 Oppure 392 221 9665 Domani doppio appuntamento con il teatro Al Sollima di Marsala alle ore 18.30 La stagione concertistica promossa dall'Accademia Ludwig van Beethoven Propone il canto della maschera Al Baluardo Velasco per la rassegna Baluarte Il nuovo sound partenopeo dei Foglia Domani l'amore sarà protagonista alle cantine Florio Filo conduttore il colore del vino Marsala Colore dell'anno Fino al giorno di San Valentino Si potrà ammirare un'installazione dedicata a tutti gli innamorati Inaugurazione ore 16 con brindisi La parrocchia di San Pietro di Mazzara del Vallo Rende noto il programma per la festa della Madonna di Lourdes 23esima giornata mondiale del malato Il 9 febbraio 2015 alle ore 17 Santo Rosario recitato dal gruppo della piccola Lourdes E celebrazione della Santa Messa A seguire omaggi a Maria e testimonianze con canti Eseguiti dagli animatori parrocchiali Il 10 febbraio 2015 sempre alle 17 Santo Rosario animato dai ragazzi del catechismo Sul tema pellegrinaggi mariani Seguirà la celebrazione eucaristica L'11 febbraio 2015 alle ore 14.30 Corteo processionale Con la partecipazione dei gruppi parrocchiali Dell'Unitalsi di Fede e Luce E di tutta la cittadinanza Con il seguente percorso Via San Pietro, Via Ponte sul Mazzaro Via Pier Santi Mattarella Corso Vittorio Veneto Corso Umberto I, Piazza Mocarta Via San Giuseppe, Piazza della Repubblica Discesa Santissimo Salvatore Alle 16.30 in cattedrale Solenne celebrazione eucaristica Presieduta dal Vescovo Monsignor Domenico Mogabero Passiamo allo sport Trasferta delicata domani per il Mazzara di Terranova Che farà visita ad una delle squadre più in forma del momento Il Paceco dell'ex gialloblu Massimiliano Mazzara Salvatore Giacalone Una settimana di intensi allenamento Per recuperare forze sul piano fisico Allenatore Nicola Terranova Puntato più sul fondo, sugli scatti Robustire muscoli Che sulla tecnica e sulla tattica Alla squadra occorreva recuperare la corsa Giocare sugli anticipi E poi riprendere i movimenti negli spazi brevi Allenamenti mirati in preparazione Anche della partita di domani contro Paceco È stata una settimana importante In cui ho visto la squadra, dice Terranova Recuperare una buona tenuta atletica Ed anche sul piano tattico I ragazzi si sono espressi molto bene Contro Paceco la squadra dovrebbe disputare una buona partita Anche se di fronte avremo un avversario tosto Che si è tirato fuori da soluzioni di classifica pericolose Paceco non perde più Da quando è subentrato alla guida tecnica L'ex Massimiliano Mazzara Che al Nino Vaccaro ha lasciato un buon ricordo La squadra ha collezionato una serie di pareggi e vittorie dentro e fuori casa Marciando come la prima della classe A dicembre il telaio si è robustito con l'ex Bognanni Mentre in porta c'è anche l'ex Mistret In classifica con i suoi 26 punti E nella zona play-out In casa ha vinto tre volte Pareggiate quattro partite E perse altrettanto Mazzara nell'ultima settimana Ha trovato la quadratura del cerchio Ma la squadra di Terranova ha esigenze diverse di classifica E vuole fare qualche passo avanti L'ultima volta, l'ultima nostra vittoria L'abbiamo conquistato proprio sul campo del Paceco contro Datti La ferma Terranova Speriamo di ripeterci I ragazzi sono pronti all'impresa Gli squadri a Rienza landa il falsone Mentre restano ancora in infermeria Rosella e Vincenzo Marino Nel corso delle partitine in famiglia Il tecnico ha provato diverse soluzioni Passanti dal 4-3-1-2 Modulo adottato abitualmente A 4-4-2 Senza trequartista Ancora non ha deciso Conclude Terranova Qualche ora prima di scendere in campo Deciderò Ma comunque Sarà sempre una formazione offensiva La squadra scende in campo Sempre per vincere Bene adesso una notizia di basket Seconda trasferta consecutiva per la Meta Energia Marsala Che questo pomeriggio torna a Catania Per incontrare la PGS Sales Gli avversari hanno gli stessi punti In classifica della squadra marsalese E pertanto la gara si prospetta Abbastanza equilibrata Fischio d'inizio fissato per le ore 18 Era la nostra ultima notizia Grazie per averci seguito fin qui A tutti voi Un buon fine settimana Grazie a tutti